Ciao ragazzi, in questo video volevo parlare un po' di geografia turistica Allora, diciamo che questa materia si basa sui posti da visitare per i turisti ossia, che ne sono in Italia qua, ne sono in Sardegna, le brughiere che è una bellissima prateria da visitare poi all'estero, posti belli da visitare, c'è Brighton in Inghilterra dove possiamo trovare, come dire, giardini con orti botanici Londra con il Buckingham Palace, dove possiamo vedere il cambio della guardia anche, che è una cosa speciale lì poi London Eye, che sarebbe la ruota panoramica di Londra, che è molto famosa e fuori dall'Europa abbiamo l'Australia, dove si può visitare il canguro rosso e per adesso ci fermiamo con i posti da visitare, poi vedremo nei prossimi video ciao a tutti, boccalupo a tutti ciao a tutti